musica 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 aspetta aspetta come ci organizziamo io vado no chi è quella da sinistra va in blu vado su power te corri come fai sempre ahahah tanto dirà male la stun porco una a destra bella 2 oh my goodness let's go ace non ha registrato non ha registrato vabbè la stand down c'è l'hai liato c'è uno registro come un down sei eh scherzo lo chiamano stop smg roma sud non ha più ahahah ahahah aspetta a l'altro punto faccio il pazzo aspetta regà regà ho scoperto un mod e questi sono forti regà io faccio una kill e muoio ok ok che non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è la gara la gara la gara colpo 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 ecco lo power che mette la mappa che io faccio schifo ja qu'è non 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 Grazie.